Siamo qui a Quis Ut Deus, che è una delle più straordinarie masserie che si possono incontrare nella meravigliosa terra di Puglia, in provincia di Taranto, accompagnato da un grande artista che si chiama Martino De Cesare, grande chitarrista che ha collaborato con tutti i più grandi artisti, soprattutto di Napoli e zone limitrofe. Sarà un'occasione per me per magari fare delle grandi serate, delle bellissime jam session e portare qui soprattutto la gente di Puglia, della provincia di Taranto per conoscere questo posto meraviglioso e naturalmente estendo l'invito a tutti gli italiani che vedranno questo film.